ciao a tutti oggi vedremo come sia possibile utilizzare le maschere anche per ritagliare gli effetti bene la composizione è già pronta l'ho chiamata maschere su effetti e aggiungiamo la composizione di nuovo una fotografia ora aggiungerò a questa fotografia un effetto della famiglia color correction in modo tale da cambiarle un po i colori allora vado nel menu effetti la categoria color correction e per la precisione l'effetto hue saturation utilizzo questo effetto nella modalità colorize quindi clicco sul bottone colorize immediatamente la fotografia acquista una colorazione rossastra adesso noi possiamo cambiare questa colorazione agendo sulle ultime tre proprietà la prima decide il tipo di colorazione a seconda la saturazione e il terzo la luminosità spostiamoci verso una colorazione magari più blu azzurra tipo questa bene a questo punto l'effetto agisce su tutto quanto il livello io voglio isolare questa colorazione in una particolare zona della fotografia e per fare questo utilizzerò una maschera bene quindi seleziono la fotografia nel caso non fosse selezionata vado a prendere lo strumento maschera della forma che voglio in questo caso voglio una forma ellittica quindi seleziono l'ellisse e disegno un ellisse intorno al volto della ragazza più o meno così a a questo punto ho aggiunto una maschera alla fotografia e la maschera appena aggiunta fa quello che abbiamo visto nella lezione precedente cioè ritaglia la fotografia mi fa vedere la fotografia dentro la maschera e non fuori e in questo caso mi ritaglia sia la foto sia l'effetto che era applicato sopra bene adesso per fare in modo che la maschera ritagli soltanto l'effetto ma non ritagli la fotografia noi andiamo nella timeline nella sezione effetti apriamo la sezione effetti e apriamo il contenuto di tutti i parametri dell'effetto u saturation eccoli qua sono gli stessi parametri che trovo nella finestra effect controls ma in più qui c'è una sezione che si chiama compositing options e questa sezione ce l'hanno tutti quanti gli effetti di after effects bene all'interno di questo compositing option al momento c'è soltanto un parametro che gestisce l'opacità dell'effetto posso azzerare del tutto l'effetto oppure riportarlo al cento per cento della sua intensità bene ma se ora io clicco il tasto più a fianco a compositing options cosa succede che mask 1 che è la maschera che io ho disegnato viene usata dall'effetto e non più dal livello infatti adesso nel monitor vedo che all'interno della maschera l'effetto u saturation è attivo mentre fuori non più fuori dalla maschera adesso vedo di nuovo la fotografia perché la maschera non funziona più come ritaglio del livello ma come ritaglio dell'effetto una maschera che viene usata come ritaglio di un effetto si riconosce perché a fianco al nome ha questo simbolo azzurro fx che sta a indicare che la maschera in questo momento è usata da un effetto e non per ritagliare il livello se non volessi più utilizzare questa maschera per ritagliare l'effetto ma utilizzarla normalmente per ritagliare il livello dovrei eliminarla da questa sezione compositing options e per fare questo bisogna cliccare sul tasto meno adesso lo faccio a questo punto in compositing option non ci sono più maschere perché ho tolto quella che c'era e la maschera è tornata normale diciamo così di nuovo ritaglia il livello ok adesso un'altra volta riapplico l'effetto cliccando il tasto più e quindi di nuovo la maschera ritaglia l'effetto e non il livello bene a questo punto vi faccio notare che la maschera in questo momento mi fa vedere l'effetto dentro il tracciato ma se volessi vedere l'effetto fuori dal tracciato e non dentro dovrei invertire la maschera quindi potrei cliccare il bottone inverted a questo punto l'effetto io saturation lo vedo fuori dal tracciato e non dentro ok se apro la maschera e modifico le proprietà della maschera tipo la sfumatura del bordo della maschera anche questo influirebbe sull'effetto proviamo aumento la sfumatura sfuma gradualmente verso l'esterno attualmente vale anche qui l'opacità potrei abbassare alzare l'opacità della maschera e quindi l'opacità dell'effetto e anche l'espansione potrei aumentarla o diminuirla in questo caso magari sarebbe più interessante utilizzare la maschera al contrario cioè come abbiamo visto prima invertendola in modo da avere intorno alla foto un alone colorato e magari potrei anche modificare la forma prendo lo strumento selezione doppio clic quindi adesso modifico la maschera tutta quanta intera e potrei appunto creare una vignetta colorata tutta quanta intorno alla maschera e di nuovo intervenire sui colori ecco magari trasformiamola più sul rosa abbassiamo un po la saturazione ed ecco ho aggiunto un alone colorato alla fotografia adesso proviamo a vedere una seconda applicazione di questo concetto delle maschere e per fare ciò usiamo un'altra fotografia quindi questa fotografia la elimino dalla composizione e prendo una seconda fotografia questa la riduco un po e a questa seconda fotografia applico un altro effetto vado nel menu effetti nella categoria distort e scelgo l'effetto transform l'effetto transform è un effetto che mi permette di controllare la posizione la scala la rotazione l'opacità e altre proprietà in più quindi sembrerebbe fare quello che già potrebbe fare da solo il livello però sotto forma di effetto quindi potrei spostare scalare eccetera però vediamo che questa cosa diventerà interessante quando io cercherò di applicare l'effetto all'interno di zone limitate della fotografia quindi adesso seleziono la foto di nuovo prendo una maschera in questo caso rettangolare e ritaglio mezza fotografia più o meno così ma io voglio usare questa maschera non per ritagliare la foto ma per ritagliare l'effetto bene quindi vengo nella timeline apro la sezione effetti qui trovo l'effetto transform ne apro il contenuto e nella parte bassa dove c'è compositing options clicco sul bottone più e questa operazione subito fa in modo che la maschera 1 diventi una maschera per l'effetto transform bene ora modifico le proprietà dell'effetto e voglio che la parte di fotografia che si trova dentro questa maschera si sposti verso il basso e cioè modificando la position verticale sposto soltanto quella parte di fotografia verso il basso finché non esce dall'inquadratura magari modifico leggermente la maschera e la porto un po' più in alto in modo che più o meno la tagli a metà bene adesso è più o meno metà rimodifico un attimo il valore ok basta fino qua bene e voglio fare anche una animazione cioè voglio che al tempo zero la posizione di questa mezza fotografia si trovi qui in basso e quindi al tempo zero accendo l'orologio e dopo circa un secondo voglio che la fotografia è ritorni nella posizione originale e per fare in modo che torni al valore originale col tasto destro clicco sulla proprietà position e attivo la voce reset e questo mi riporta la fotografia nella posizione originale e automaticamente mi ha messo un keyframe qua sulla proprietà facciamo una preview ok benissimo magari il keyframe d'arrivo lo ammorbidisco con la f9 ok benissimo adesso io vorrei che nella parte bassa della fotografia succedesse lo stesso cioè che questa mezza foto partisse dall'alto e venisse in giù quindi ho bisogno di un altro effetto transform per modificare soltanto la parte che sta sotto quindi prendo effetti di nuovo distort transform questo secondo effetto voglio che funzioni soltanto in questa parte sotto qui quindi ho bisogno di una maschera che funzioni solo in questa parte qui e per fare questo prendo la maschera numero uno la duplico quindi ctrl d ho due maschere e per fare in modo che funzioni nella parte sottostante anziché usarla con la voce add la uso con la voce subtract in questo modo la maschera funziona solo sotto ma io non voglio che ritagli al livello ma che venga usata dal secondo effetto che sta qua sotto quindi transform 2 lo apro e alla voce compositing option clicco il bottone più automaticamente mi associa la maschera numero uno la prima che trova ma io in questo caso allargo un attimo la timeline voglio associare a questo effetto la maschera numero 2 quindi da questo piccolo menu qua posso scegliere quale maschera usare in questo caso scelgo la maschera 2 quindi anche la maschera 2 adesso al simbolo fx perché anche lei è utilizzata per mascherare un effetto e non per ritagliare bene il primo effetto usa la prima maschera per spostare la fotografia dal basso all'alto il secondo effetto transform lo voglio usare per spostare questa seconda parte della foto dall'alto al basso quindi al tempo 0 prendo la fotografia e la sposto su finché non esce completamente dall'inquadratura tipo qua accendo l'orologio poi mi allineo con il secondo keyframe del primo effetto e in questo momento risetto di nuovo la posizione reset e la fotografia è tornata di nuovo tutta intera e anche questo secondo keyframe lo ammorbidisco con l'f9 e vediamo il risultato finale qual è che la fotografia dal nulla si apre in due metà finché non torna tutta intera e questo sono riuscito a farlo grazie al fatto che ho lavorato su due effetti che lavorano indipendentemente su due parti della fotografia uno sulla parte alta e uno sulla parte bassa bene e con questo secondo esempio per oggi ci fermiamo qua e ci vediamo alla prossima ciao